Su questo fronte l'impegno è massimo, perché noi già con l'accordo partito nel febbraio del 2014 con la Camera di Commercio, un accordo che poi dopo è diventato un protocollo a livello provinciale, abbiamo la lista, l'elenco quindi di tutte le partite IVA di nuova istituzione. Quindi come viene aperta una partita IVA e viene a insediarsi una, in questo caso la stireria o comunque una qualsiasi ditta all'interno del territorio del comune, noi facciamo un controllo che definiamo preventivo dove visitiamo queste ditte e verifichiamo se è esistente o se non è esistente oppure se presenta delle violazioni. Chiaramente nell'ambito di quelle sono le competenze strette della Polizia Municipale, più che altro delle competenze delizie. La stireria a agosto è stata innanzitutto richiesto l'apertura IVA attorno a giugno. Il 3 agosto abbiamo effettuato la nostra visita preventiva dove non è emersa alcun tipo di violazione né per quanto riguarda i macchinari, tantomeno per quanto riguarda le norme edilizie. Però era stata comunque attenzionata perché gli intervenuti avevano notato che potevano esserci dei dubbi su altri punti di vista, non di competenza. È stato quindi tramite il tavolo interforza che si riunisce presso la questura, è stato individuato come nuovo obiettivo e come priorità di obiettivo questo, tant'è che il 23 di settembre è stato effettuato l'intervento dove poi sono state verificate queste numerose violazioni nell'ambito della manodopera non regolare.